Ciao a tutti amici collezionisti, bentornati o benvenuti nel canale in questo nuovo video dove oggi faremo due chiacchiere insieme al Defensor Ebbene ragazzuoli, eccoci qui Allora, prima di iniziare a chiacchierare di questo bellissimo, direi, combiner vi dico dove l'ho acquistato, l'ho acquistato da Shozeta Store in descrizione, se vi interessa, vi lascio il link che vi rimanda direttamente al prodotto che in questo momento è scontato anche del 30% stava sui 210 dollari, adesso lo trovate a 149 dollari il che significa circa 135 euro e la cosa bella è che le spese di spedizione sono incluse e nel 90% dei casi non vi arriva neanche la dogana quindi il prezzo che vedete dei loro prodotti è il prezzo finito e questa è una cosa veramente eccezionale avevo visto adesso, parlando del modello, le recensioni di alcuni recensori internazionali e già mi ero accorto che aveva un rapporto qualità-prezzo veramente fantastico ma finché non tocchi con mano un determinato modello non puoi renderti conto della qualità soprattutto delle plastiche e devo dire che sono rimasto veramente contento e ultra soddisfatto della qualità dei materiali che ha questo Transformers è un modello che una volta combinato misura 35 cm e pesa ben 1,4 kg quindi la ciccia si vede e si sente adesso lo allontaniamo un pelino che vi voglio far vedere la confezione è anche questa confezione che apparentemente sembra un po' così leggerina perché comunque la scatola non è che sia una scatola chissà quanto curata c'è una bella immagine qui del nostro Defensor che ovviamente non si chiama Defensor ma Santo Patrono qui il logo della IS Model, abbiate pazienza ma non riesco a farvelo vedere perché è enorme eccolo qui adesso vi faccio vedere perché mi è piaciuta questa confezione qui dietro c'è un'altra immagine del nostro Defensor con alcune caratteristiche qui quando l'ho aperta non ho trovato il classico blister in plastica che si trova in questi prodotti di terze e quarte parti e via dicendo ma il caro e vecchio polistirolo e questo anche se può sembrare una cosa banale perché ovviamente a noi ci interessa il modello e su questo sono d'accordo con voi vedere il polistirolo è sempre una gioia è sempre una gioia perché ti dà quel non so che di cura nell'imballaggio ti dà quel non so che di ritorno al vintage insomma quelle cose che stuzzicano un po' la nostalgia di noi un po' più vecchietti allora mi ero dimenticato di togliere questo accessorio che questo altro non è che le pale dell'elicottero riportiamo qui il nostro Defensor vieni qui Gigione aspetta richiappo per la mutanda mettiamo qua allora io queste non ce le ho messe perché sinceramente nella modalità combiner non mi facevano impazzire perché queste sono le pale dell'elicottero che una volta aperte insomma sono abbastanza ingombranti e andrebbero messe sul braccio destro e quindi su blades queste vabbè si aprono così hanno tutti piolini qui che si incastrano e poi basta semplicemente sganciarli per aprire le pale eccoci qua quindi come vedete insomma è abbastanza ingombrante la pala dell'elicottero una volta aperta e questa andrebbe messa qua questa si incastra qui con questo piolino questo ovviamente a gusti se volete potete anche metterla aperta parzialmente chiusa totalmente chiusa come l'avete vista all'inizio questo a vostro gusto io preferisco così allora come vi dicevo qualità delle plastiche eccezionali gli faccio fare un girino manualmente mi piacciono molto le proporzioni del modello mi piace come si integrano bene i singoli componenti nel modello abbiamo delle parti di part forming quindi il modello non è completamente trasformabile c'è da fare un po' di attacca e stacca ma cosa diciamo che a me non mi ha mai dato più di tanto fastidio perché comunque con gli attacca e stacca eravamo già abituati nei giocatori G1 per cui se questo attacca e stacca migliora la proporzione di un modello lo stabilizza e tutto quanto non mi dispiace per niente anzi ben venga allora questo è streetwise la gamba sinistra che assume questa forma una volta combinata molto carino questo è groove la moto le proporzioni del defensor forse il defensor è uno di quei modelli in cui non bisogna badare le proporzioni perché come vedete è un combiner che è composto da un'ambulanza una macchina della polizia e già qui andiamo fuori perché l'ambulanza nella realtà è più grande di un'auto poi abbiamo un elicottero addirittura come braccio destro e una moto come gamba destra quindi le proporzioni sono del tutto sballate ma a noi di questo che ce ne importa? nulla l'importante è che è figo e la moto groove guardate che bella linea che assume diamo un'occhiata anche alla parte posteriore come vedete è molto pulita soprattutto qui la parte della schiena non ci sono zaini ingombranti quindi la linea è molto sottile potete se volete mettere questo non è un accessorio questa è parte integrante di hotspot quindi la parte centrale del combiner però questa è a gusto qui c'è un innesto a baionetta come vedete molto molto rigido che va infilato qua dentro adesso io non lo sto a fare perché sennò dopo mi addanno per toglierlo e quindi vi rimane la scala ok? del camion attaccata dietro in questa parte centrale qui poi ci sono anche altri accessori che vi faccio vedere man mano che andiamo avanti questo è first aid il braccio sinistro l'ambulanza nel quale dobbiamo attaccare come parte opzionale la mano lo stesso vale su blades le mani sono separate quindi come vedete la linea di questo combiner è veramente molto bella a me piace tantissimo allora ci tengo a sottolineare per chi non lo sapesse che questo è un oversize del McToys Guardia quindi il progetto originale era il McToys Guardia che è tale o quale alla fine a questo cioè lui che è tale o quale al McToys solo in scala maggiore perché qui come dicevo stiamo sui 35 cm il McToys non ricordo sinceramente quanto era alto perché non l'ho mai avuto ma forse arrivava qui credo comunque tornando agli accessori qui ci sono questi due cannonazzi che potete nella modalità combiner attaccare qui dietro questi vanno sempre su questa parte qui una volta che avete innestato la parte della gru qui vanno qua vedete c'è questo innesto e vanno qui così uno e due e li andate a creare in questo modo uno zaino un po' più ignorante ok adesso vi faccio vedere più o meno come aspettate che alziamo un po' tutto quanto qui che sta a fare bello imponente vedete adesso appoggio semplicemente per darvi un'idea di come viene e non è male per niente ok poi abbiamo due bei fuciloni eccoli qua sono anche diversi come vedete ottima qualità anche qui e ci sono anche degli innesti per garantire la presa sulle mani questi due qua allora veniamo alle cose diciamo meno carine quelle che possiamo sottolineare come difetti perché ogni modello comunque non è esente dai suoi difetti non esiste un modello che non ha difetti modello perfetto non esiste così come non siamo perfetti noi e in questo modello il difetto strutturale poi ce n'è un altro diciamo un po' più soggettivo quindi anche quello è una cosa mia personale che ho notato dopo ve la faccio vedere invece il difetto oggettivo di questo modello che riguarda la struttura è l'articolazione delle spalle perché come vedete se vado a tirar sulle spalle queste tendono a collassare vedete non tiene la posa se faccio piano piano quindi ecco il consiglio che vi do se volete assicurarvi la posa è di sollevarlo piano piano ma nell'elicottero questo non avviene perché l'elicottero pesa di più vedete il secondo scatto non lo tiene e quindi si sbraga tutto e vabbè diciamo che se volete una posizione aperta delle braccia per una posa figa potete ugualmente farla perché qui c'è una doppia articolazione alla spalla c'è quella che fa parte diciamo qui della parte alta dove si innesta l'elicottero e questa più bassa e dobbiamo lavorare lì se vogliamo ecco vedete uno scatto secondo scatto in questo caso la posa si tiene certo non arriva quassù a 90 gradi ma comunque una posa riusciamo a fargliela fare e questo è l'unico difetto del modello perché per il resto è molto solito molto molto curato nei dettagli le plastiche sono veramente eccezionali ha degli innesti durissimi tant'è che nella trasformazione mi sono rovinato le mani più di qualche volta perché ha delle plastiche dure ben incastrate ha degli innesti molto molto solidi quindi fate attenzione anche a questo quando ci giocate l'altra cosa diciamo che non mi ha fatto impazzire ma questo ovviamente parte dal progetto originale McToys sono i piedi perché come vedete la pianta del piede secondo me è troppo grande nel senso questa parte posteriore soprattutto non è che mi faccia impazzire esteticamente e non serve neanche per la stabilità del modello perché se qui avessero fatto una specie di taglio con una piccola cerniera e questa parte si poteva catapultare verso l'alto la linea sarebbe stata un po' più morbida e non veniva fuori sto piede enorme vedete comunque alla fine è un dettaglio anche abbastanza irrilevante ok adesso vediamo le articolazioni allora quelle delle spalle ve le ho fatte vedere adesso andiamo a vedere un po' facendo una pratica a metterlo tutto nell'inquadratura sto ragazzone ok allora la testa è su perno anche qui abbiamo un perno molto 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 duro quindi si fa bisogna fare un po' di forza per girare la testa però alla fine ce la facciamo eccola qui ovviamente è all'interno di questa sezione quindi ci sta che è un po' più dura le braccia come dicevo non tengono molto bene la posa a 90 gradi quella dell'apertura laterale ma quella frontale non ha nessun tipo di problema quindi solidissimo se messo così vedete lo stesso vale per queste articolazioni che sono a scatto qui al gommito e il piegamento dello stesso anche qui non c'è nessunissimo problema di stabilità vedete il busto ruota aspettate eccolo sempre a scatto le gambe vengono in fuori fin qui sempre a scatto questi si tengono molto bene come vedete qui ci sono questi pannellini che potete orientarli in base a come volete posare le gambe frontalmente poi c'è il ginocchio il piegamento dello stesso il piede è su sfera una sfera che ha una presa molto solida in genere le sfere sono quelle cose che mi fanno sempre un po' storcere il naso perché ho sempre paura che tendono ad allentarsi invece qui devo dire che sono abbastanza rigide quindi il modello non ha problemi di di sbilanciamenti ok ecco qua anche qui qui abbiamo questi pannellini anche che volendo possono ruotare poi c'è anche la rotazione sul loro stesso asse quindi come posabilità è anche molto molto posabile eccolo qui come vedete riusciamo a farli assumere qualche posa figa bellissimo mi piace un casino 135 euro 35 centimetri di altezza un chilo e 400 grammi di peso è praticamente regalato bellissimo se volete un defensor in collezione non volete spendere tanto questo è sicuramente il modello che mi sento più di tutti di consigliarvi ragazzi un'ultima cosa che vi chiedo se vi fa piacere se vi va di aiutare il canale è di dare un'occhiata all'home page di showzeta store come vedete su in alto c'è questa freccia che indica un cerchio rosso se li inserite la parola chiave emiliano 74 così come la vedete scritta mi aiutate ad accumulare dei punti all'interno del sito in modo che io posso portare sempre più contenuti nel canale e così facendo proveremo anche più in là a chiedere a showzeta se ci potrà fornire qualche codice sconto per poter avere degli ulteriori sconti tutti noi ovviamente non solo io detto questo io vi ringrazio di avermi fatto compagnia fino alla fine della recensione di questa chiacchierata più che altro spero vi abbia intrattenuto fatemi sapere cosa ne pensate di questo modello io ragazzi ve lo straconsiglio sarò ripetitivo ma ve lo straconsiglio perché è fichissimo chiudo qui la recensione ci vediamo alla prossima ciao a tutti da Emiliano e dal Defensor e dal